A questo punto direi che in questo punto chiedo scusa, mi inserisco anche se come al solito dimentico le cose e vengo in mente dopo. Un'altra grande iniziativa che ci rende particolarmente orgogliosi è che faremo nel periodo della mille miglia, per un'altra delle grandissime realtà che caratterizza Brescia, faremo una mostra dedicata alla mille miglia, più specificatamente dedicata al mito della velocità e ci fa molto piacere dire che insieme all'ACI di Brescia e alla mille miglia SRL che è quella che organizza la nostra, che organizza la mille miglia, siamo riusciti a portare tutto il polo registrico della mille miglia al marco nel giorno della mille miglia, quindi insieme alla nostra sarà anche possibile vedere innanzitutto macchine che verranno portate qui in un certo livello, ma soprattutto ci sarà un momento molto attrattivo per cui tutta la stampa internazionale farà poi riferimento allo spazio vicino alla nostra che abbiamo creato.